Onorevoli parlamentari, ogni giorno che passa senza una buona legge sull'eutanasia significa malati terminali in più che si suicidano nelle condizioni più atroci. Noi vogliamo sostituire l'eutanasia clandestina con le regole, le buone regole dell'eutanasia legale. C'è una proposta di legge di iniziativa popolare che aspetta, che vi aspetta dal settembre 2013. È ora di discuterne, anche perché la gente e i cittadini sono già pronti e adesso è il vostro turno.